Loro fanno giornalismo veramente bello sulla Silicon Valley, hanno una forma di paywall soft, nel senso che stanno cercando di utilizzare i social in maniera intelligente, quindi se i lettori provengono dai social tramite condivisioni che sono state fatte dai giornalisti di The Information, allora possono leggere un pezzo al giorno gratis. Quindi è un modo per far diventare il giornalista parte di un intero ecosistema e trasformarlo in qualcosa che non è più solo un centro di costo, ma che potenzialmente può diventare anche uno che ha un seguito e quindi induce delle persone a sottoscrivere l'abbonamento, quindi può diventare paradossalmente anche un centro di ricavo.